Una morte in apparenza naturale che, grazie all'autopsia del medico legale Hildo Polidoro, si configura come morte indotta da terzi. Una vicenda complessa quella che riguarda la povera Alina Kozak, la 41enne di origine rumene deceduta nella sua abitazione a Spoltore la notte del 22 gennaio del 2023. A seguito di approfondimenti resisi necessari dall'esito dell'autopsia da parte in particolare degli investigatori del GAV, gruppo antiviolenza della procura di Pescara, emersa un coinvolgimento diretto del suo compagno Mirko De Martinis, unica persona presente in casa quella notte e per il quale è in corso un procedimento in corte d'assise con l'accusa di omicidio volontario. Questa mattina agli ordini del presidente della corte Guido Campli ha ascoltati diversi investigatori, in particolare i due PG del GAV, Fausta Fellegara e Guido Mariani. Ciò che è scaturito è un rapporto estremamente problematico tra Alina e Mirko, segnato da problemi economici, ricorso a terapia di natura quasi spirituale, frequenti contrasti, insomma una relazione ormai logorata, tanto da spingere Alina a manifestare l'intenzione di lasciare Mirko, proprio qualche giorno prima della morte, quando era pronta a raggiungere una sua amica a Teramo e aveva chiesto a un uomo, con il quale aveva da un po' una certa simpatia, ad accompagnarla. Oggi abbiamo percepito finalmente e direttamente in dibattimento quali erano le condizioni in cui Alina era costretta a sopravvivere, con vessazioni di ogni tipo e quindi probabilmente poi sono emersi alcuni aspetti che sono assolutamente importanti, che saranno oggetto di valutazione anche in sede di discussione. Lei, insomma, aveva la percezione di questi problemi tra Mirko e Alina? La percezione sì, non a questo livello, devo dire, però la percezione sì, perché lo sapevo che non aveva una vita buona e a mio parere un uomo che voleva bene, perché se avrebbe voluto bene non gli avrebbe fatto fare la vita che ha fatto in questi 16 anni. L'avvocato di De Martinis, Michele Vaira, intanto presenta eccezione sull'ammissibilità dell'autopsia di Polidoro, effettuata senza la presenza di una controparte in favore del suo assistito, eccezione però respinta da Campi, il quale spiega che quell'autopsia, come spiegato anche dall'APM in Rita Mantini, è stata effettuata non a seguito di sospetti di morte violenta, ma perché, come avviene spesso, si è trattato di morte improvvisa di una giovane donna in buona salute. Oggi abbiamo ascoltato tutti gli investigatori del caso. La prossima volta ascolteremo i testimoni di questa vicenda, che sono amici, vicini, parenti. In realtà abbiamo oggi la ricostruzione di una normale dinamica familiare di due persone che hanno convissuto più o meno 16 anni insieme e non vi è finora un solo episodio di violenza, un solo episodio di gelosia.